attenzione lo vedo adesso io la parte divertente ossia in missione 2 con restringimento e camion di qua adesso vedremo i fenomeni che da dietro si butteranno già di là tipo questo che si butta già da qui ma in teoria tu hai c'è devi andare fino a quando non finisce la zebra è che qua ti puoi terra di nessuno cioè tu vai dove cazzo vuoi tu teoricamente dovresti stare ancora qua devi mettere lei in fondo dove stanno entrando quelli là perché qui c'è ancora la linea solida se proprio vogliamo stare alle regole esatto perché tu sei ancora comunque in piena corsia di missione ecco teoricamente io potrei entrare qua peccato che c'è sto ricchionazzo di merda che ha deciso bene che era dentro di ributtarsi di qua cioè figa attenzione c'è veduto del blu no a parte che adesso dice che c'è questa famosa biforcazione che inizia tipo qua quindi infatti c'è il casino ah già di lì siamo già divisi eh siamo già divisi perché? e perché questi li butta praticamente contro mano mentre noi siamo sulla... è vero perché va di là c'è... ecco questo c'è finito anche sopra ragazzi lo sapete che state camminando sui birilli? no evidentemente no ma che cazzo stanno facendo? li hanno uccisi praticamente i porini e adesso questi qua guarda che stiamo tutti insieme qua adesso eh perché loro vanno di là e loro vanno di là si adesso noi ci ritroviamo tutta questa gente qua perché se sente il rumore forte si attiva l'allarme e solitamente è l'allarme di casa non fare quello che è in mente adesso mi scanzo eh lo sapevo io perché aspettare due secondi si ma che coglione figo si adesso ti lascio andare anche te vai 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 anche te dai mi avete tutti fretta e poi vabbè a parte l'anno del covid io ho sempre fatto l'autista navetta prendevano sempre me, mio cugino e un altro perché comunque di noi si fidavano sappiamo che comunque guidavano bene, lavoravano bene questi qua dietro bene giustamente questo ho tagliato la strada quello dietro che ha tutte le ragioni di questa terra hai ragione zio hai ragione chi ha ragione a questo? mi ha fatto, si si sta facendo i gesti adesso scendono e si picchiano comunque e adesso arriviamo in... che cazzo? vai vai ah ok è uguale dimmi che ci butta contro mano si chissà di si ma forse a noi va bene cosa sta facendo quello? perché? ahahahah forse a noi va bene si a noi forse si nell'ignoranza ci è andata bene si ma noi qua eh va che macchinina parcheggiata? eh sto cazzo però oggi sono andato con mio capo lì a fare l'interno del design c'era un ferrari dove è? non lo vedo mi sa che arriva da destra o sinistra qua o o o no nemchia o o o o o o o o o la troia madonna che odore se trova vespe questo figa e poi dopo io avevo la macchina euro 3 che era inquinante ma c'è una bambolina, mi dicono tutti che c'è una bambolina dai, ma come c'è una bambolina, ma dove c'è una bambolina? tutta sta ferata per arrivare fin lì e sei proprio scemo, se li vuono che qua c'è una discontinua almeno e anche là c'è una bambina musica 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 musica